Amici e amiche di Sportme, buon pomeriggio dal Don Peppino Cutropia per Gifra Milazzo, Real Gescal, semifinale playoff del campionato under 15 regionale. Gifra che oggi schiera a Gitto, Del Bello, Foti, Astone, Scolaro, Cavallaro, Presti, Adige, Campo, Cannistrà e D'Amico, risponde il Real Gescal con Foti, Krupi, Oteri, Diddio, Vinci, Culli, Bonifacio, Costa, Reiti, Viscuso e D'Angelo, incontro affidato alla direzione del signor Gabriele Gazzo della sezione di Catania. Fischia il direttore di gara, si può cominciare, in attacco la formazione padrona di casa, viene servito Astone, c'è il tocco in aria per D'Amico che cerca spazi, D'Amico prova la conclusione, che però si spegne sul fondo. Contropiede per il Real Gescal con Culli, il traversone in aria, Foti, intuisce la traiettoria e allunga in corner. Lancio lungo di Foti, occasione per i bianconeri che si distendono in avanti con Presti, Presti a tu per tu con il portiere. E poi l'intervento decisivo di Vinci sulla linea, Real Gescal che si salva dal vantaggio della Gifra Milazzo. Adige serve Foti, traversone profondo del numero 3, pallone fuori misura. Calcio di punizione per la Gifra Milazzo sul punto di battuta Cavallaro, traversone in mezzo, deviato. E ci sarà corner per la formazione padrona di casa. Rimessa per il Real Gescal, ma fischia due volte Gazzo, si va al riposo sul parziale di 0-0. Si torna in campo per il secondo tempo di Gifra, Real Gescal. Calcio d'angolo per il Real Gescal, opportunità dalla bandierina, poi un po' di confusione in aria. Pallone che finisce nella zona di Culli. Il suo destro però si spegne al lato. Ancora Real Gescal che prova a costruire nella metà campo avversaria. Si propone Vinci che scambia con Culli, libera il destro il numero 7, ma è in traiettoria gitto e blocca. Real Gescal che prova a ripartire dalla propria metà campo, però recupera il pallone Cannistra. Mancino all'incrocio dei pali e si allunga Foti che compie un miracolo. Si gioca ancora nella metà campo del Real Gescal dove la Gifra Milazzo recupera un ottimo possesso. Astone si propone, ancora Astone la sua progressione, entra in aria il numero 4 che poi prova il tiro. Deviato che si inzacca alle spalle del portiere e 1-0 per la formazione bianconera. Assegno Astone che porta avanti la Gifra Milazzo. Rivediamo il destro di Astone deviato da Krupi e poi palla in rete per l'1-0. Calcio di punizione per la Gifra Milazzo. Si propone qui Foti che però calcia alto. Prova a rispondere qui il Real Gescal che vuole trovare il gol del pareggio. Azione costruita sulla sinistra. Arriva la conclusione diretta in porta. Gitto si impegna e salva i suoi. Sostituzione per la Gifra. Entra con il numero 13 Scalzo ed esce Campo. Magazzù prova il lancio lungo. Ottimo stop di Viscuso. Ancora Viscuso. Pallone corto per Scalia. E ancora Gitto a salvare la Gifra Milazzo. Ottimo intervento del portiere. Altro cambio per la Gifra. Entra Bisbano. Punizione Gifra. Parte del Bello. Direttamente in porta e c'è la traversa. Colpita dai bianconeri. Altro calcio piazzato. Stavolta per il Real Gescal. È pronto ad andare Viscuso con il Mancino. Impreciso qui il numero 10. Fischia tre volte Gazzo. Gifra Milazzo che batte 1-0 il Real Gescal. Grazie al gol di Astone. E che conquista la finale playoff. Ottimo risultato per la formazione bianconera. Che nel prossimo turno affronterà la stella nascente. Che nel prossimo turno affronterà la stella nascente.